Nunca sono arrivata a 80 anni Cerco la vita e morte ma risponde Si stuta o no? Quelli si passano guaglio Ma come cazzo se faccio che stuca? E per forza Ecco Ma Questa che cosa moderna qua io Ma ragia che la strana molto la carfana Ma come si stuta qua? Qua Si passano guaglio Niente Qua Della città era soprattutto la rete idrica Qua si leva la luce Ma va a fare un po' qui qua Facciamo la piccola La seconda della voce è Alessandro questa era che era spezzata qui E' poco poco meno vibrato Vedi è vibrato qui E' un da 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 qui Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.